Ciao a tutti e bentornati su Dazbao, mentre noi qua la scorsa settimana abbiamo discusso di Cina, ma ne abbiamo discusso con profonda preoccupazione, mi sto riferendo a quei pattugliamenti congiunti tra poliziotti cinesi e poliziotti italiani, o quelle stazioni di polizia cinese, o almeno così noi l'abbiamo chiamate, ecco, mentre noi immaginavamo i tentacoli del polivo Xi Jinping che avanzavano in Italia, dall'altro lato del mondo però sempre Xi Jinping ha messo insieme i leader del Medio Oriente del mondo arabo in quello che è stato probabilmente l'incontro internazionale più rilevante e significativo dell'anno. Quindi cerchiamo di capire un po' che cos'è successo e cronologicamente tutto questo è accaduto alla fine della scorsa settimana, quando Xi Jinping si è recato in Arabia Saudita con un'agenda particolarmente fitta che ha incluso anche il vertice tra Cina e paesi del Golfo Persico, o addirittura anche colloqui bilaterali tra Cina ed Egitto, con la Palestina, Sudan, Marocco, Iraq e oltre a questo il vicepremier cinese Hu Chunhua è in visita negli Emirati Arabi Uniti e presto raggiungerà anche l'Iran. Quindi un'agenda veramente fitta per quella che è la Cina in questi giorni e incontri che hanno trovato anche un'accoglienza abbastanza calorosa potremmo dire, l'accoglienza che c'è stata a Xi Jinping accolto dalla famiglia reale al completo e anche con quel classico tappeto viola che diciamo viene steso in quelle che sono le occasioni più importanti. Ma comunque un'accoglienza forse ben diversa potremmo dire da quella che era stata offerta a Biden qualche mese fa. In estate se vi ricordate infatti il paese arabo si era rifiutato di accogliere le richieste statunitensi di calmerare i prezzi del petrolio andando ad aumentare l'estrazione e quindi andando ad aumentare la disponibilità di greggio sul mercato. E questa era una misura che gli Stati Uniti avevano richiesto per ridurre l'impatto della crisi energetica ma anche dell'inflazione che c'è qua in occidente almeno dallo scoppio della guerra in Ucraina ecco. Ora in quel momento Biden potremmo dire che aveva ricevuto un no abbastanza secco che rivelava anche un po' una frattura tra Stati Uniti ed Arabia soprattutto in riferimento alla questione russo-ucraina ma con Xi Jinping le cose sembrano essere andate diversamente o almeno stando alla Saudi Press Agency cioè l'agenzia di stampa ufficiale dell'Arabia Saudita ecco che leggiamo di coordinamento nel campo della difesa viene citata la lotta al terrorismo viene citata anche la visione comune tra Cina e paesi arabi riguardo proprio la questione della guerra in Ucraina ma oltre a questo in questi giorni Cina e Arabia sono giunti alla firma di 34 accordi commerciali per un valore complessivo che è inestimato intorno ai 30 miliardi di dollari con una collaborazione che si parte dal petrolio ma si estende anche ad altri ambiti ad esempio alle energie rinnovabili all'ambito delle infrastrutture ma anche la cooperazione spaziale l'information technology raggiunge anche il sistema sanitario e quindi anche le catene di approvvigionamento dell'alta tecnologia che anche questo è un tema molto caldo di attualità ma poi si estende anche ad altri ambiti e in questo contesto emerge ad esempio quello che è il memorandum con Huawei che è un memorandum sul cloud computing e sulla progettazione di soluzioni digitali rivolte alle città quindi evidentemente qualcosa di relativo al concetto di smart city portato in quella zona del mondo. Ora noi sappiamo che Huawei è un'azienda fortemente sanzionata dagli Stati Uniti un'azienda che peraltro è stata anche parecchio danneggiata dalle sanzioni in vigore dai tempi di Donald Trump e potremmo dire quindi che facendo queste considerazioni sarebbe abbastanza ingenuo non inserire quello che sta accadendo nello sfondo delle tensioni da un lato tra Cina e Washington e dall'altro lato anche le tensioni tra i paesi del golfo e sempre Washington dall'altra parte. Per quanto riguarda i rapporti Cina e Stati Uniti sappiamo che probabilmente hanno raggiunto il punto di non ritorno con la crisi su Taiwan dell'agosto di quest'anno ma dall'altro lato anche i rapporti tra Washington e Riyadh hanno avuto quest'anno i loro alti e bassi principalmente legati alla questione del petrolio che vedono un'Arabia Saudita sempre più insofferente potremmo dire all'idea di farsi dettare l'agenda petrolifera da Washington e quindi un'Arabia Saudita che reclama più indipendenza nella gestione del proprio interesse economico però dall'altro lato abbiamo gli Stati Uniti che invece accusano esplicitamente l'Arabia di essersi mossa in coordinamento con la Russia per quanto riguarda la crisi energetica ma quel taglio della produzione di petrolio voluto da Bin Salman sì sicuramente ha avuto l'effetto di acquire la crisi energetica in occidente però oltre a questo è riuscito a garantire a portare un surplus di budget per il paese arabo e stiamo parlando del primo surplus in dieci anni quindi qualcosa che si è avverato che si è ottenuto grazie proprio agli elevati prezzi del mercato energetico insomma potremmo quasi dire che l'idea che con meno Stati Uniti si abbia anche più guadagno è più che un sospetto in quelle zone del mondo però non dobbiamo nemmeno cedere la tentazione di leggere ciò che accade solo in riferimento a questa cosiddetta nuova guerra fredda cioè all'idea che ogni paese debba necessariamente schierarsi o con gli Stati Uniti o con la Cina perché per quanto sia vero che da quando gli USA hanno spostato la loro strategia di sicurezza il loro pivot verso l'Asia orientale con quella strategia di sicurezza che prevede il contenimento della Cina nel momento in cui hanno spostato la loro strategia dall'altra parte del mondo per certi versi hanno abbandonato il Medio Oriente e l'Asia centrale e pensiamo a quel ritiro delle truppe dall'Afghanistan nel 2021 definito da molti osservatori abbastanza critico se non disastroso ma d'altra parte anche il mondo arabo non ha visto di buon occhio quel ritiro così disorganizzato perché è foriero di possibili nuove instabilità in quelle regioni e in questo senso si può dire che il mondo arabo possa ritenere la Cina un partner alternativo abbastanza interessante anche perché per quanto la Cina qui da noi viene dipinta come potenza islamofoba e massacratrice di musulmani ed evidentemente mi sto riferendo al Xinjiang però in realtà gli stati musulmani non condividono necessariamente quest'idea anzi due mesi fa sono stati proprio gli stati musulmani a bloccare la richiesta fatta dall'Occidente all'Alto Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite una richiesta per aprire una discussione sul Xinjiang e il loro voto contrario ha proprio bloccato questa richiesta bloccando quindi questa discussione potremmo dire che per il mondo arabo non c'è nulla di cui discutere di Xinjiang che è una posizione tutto sommato ribadita anche in questi giorni proprio da Bin Salman che ha lodato gli sforzi della Cina nel combattere l'estremismo in Asia centrale quindi stiamo parlando proprio di Xinjiang dichiarando che l'Arabia appoggia le misure e gli sforzi di deradicalizzazione della Cina opponendosi fermamente alle interferenze esterne negli affari interni della Cina soprattutto quelle interferenze portate avanti col pretesto di proteggere i diritti umani ed evidentemente sta sta parlando degli Stati Uniti d'America ma nonostante questi motivi di attrito tra Arabia e Stati Uniti non dobbiamo però dimenticarci che Washington resta comunque il principale partner nella vendita di armi al Regno Saudita con quasi 18 miliardi di forniture negli ultimi vent'anni o tra il 2003 e il 2021 e per quanto in questo ambito la Cina sta recuperando un po' di terreno potremmo dire però al momento nell'ambito militare Washington è ancora un partner fondamentale e per il momento non sembra proprio che la Cina sia intenzionata a sostituire il ruolo degli Stati Uniti in questo ambito e in questa regione del mondo perciò potremmo dire che più che una nuova guerra fredda in cui ci si trova costretti a scegliere uno schieramento per il momento l'Arabia sta curando i suoi interessi muovendosi come come più le conviene ma dall'altro lato oltre agli interessi arabi ci sono evidentemente anche gli interessi cinesi nei paesi del Golfo o addirittura nella cosiddetta area Mena cioè Medio Oriente e Nord Africa quindi dal Marocco all'Iran potremmo dire ecco una zona nella quale la Cina principalmente cerca fonti energetiche diversificazioni delle fonti energetiche e oltre a questo anche mercati sicuri per i propri investimenti e ben conosciamo il progetto cinese della nuova via della seta che è proprio una serie di piani di investimento e di sviluppo dei mercati rivolto a varie aree del mondo compresa evidentemente anche l'area Mena e questo ha portato la Cina ad essere il primo partner commerciale di Riyadh con transazioni tra Pechino e Riyadh che nel 2021 hanno raggiunto gli 87 miliardi di dollari che è il triplo del commercio tra il regno arabo e gli Stati Uniti e questo è un dato abbastanza significativo e oltre a questo la Cina è anche il principale importatore del greggio saudita quindi qualcosa come 1,7 milioni di barili acquistati ogni giorno e contemporaneamente il paese di Bin Salman quest'anno è anche diventato la prima destinazione degli investimenti cinesi che sono investimenti diretti in molti ambiti di cooperazione ed è così che vediamo il progetto cinese della nuova via della seta che si intreccia con quel progetto arabo che invece si chiama Vision 2030 un progetto lanciato nel 2016 che porta proprio la firma di Bin Salman e questo progetto saudita questo Vision 2030 è sostanzialmente un tentativo di ridurre la dipendenza dal petrolio dell'economia di quel paese quindi impostando una diversificazione dell'economia sviluppando altri servizi quindi sulla salute l'educazione l'infrastruttura ma anche il turismo e tutto questo l'abbiamo visto anche accompagnato da strategie di soft power per cercare di ricalibrare o ridefinire l'immagine che quel paese ha nel resto del mondo ecco insomma con tutto questo potremmo dire che se per gli Stati Uniti l'Arabia i paesi del golfo sono un deposito di petrolio o meglio potremmo dire di petrol dollari dall'altro lato la Cina sembra aver compreso meglio quelle che sono le esigenze del regno saudita e degli altri paesi del golfo ma anche del Medio Oriente ed è intenzionata diciamo a collaborare in vari ambiti quindi incastrando quella che è la sua agenda della via della seta con quella che invece è l'agenda di Vision 2030 e sono agende che prevedono pacificazione delle regioni sviluppo economico in quella prospettiva win-win di cui tanto la Cina parla cioè l'idea che da questi accordi vinco io ma vinci anche te e in questo ambito Pechino anche in questo nuovo quadro di cooperazione allo sviluppo potremmo dire anche offerto 700 milioni di dollari di aiuti allo sviluppo di paesi arabi quindi una cooperazione rivolta anche allo sviluppo agricolo all'incremento della produzione alimentare oltre anche a impostare accordi economici che concedono la rimozione di dazi o di tasse verso i paesi meno sviluppati di questa di quella regione ecco questo in estrema sintesi ciò che è accaduto alla fine della scorsa settimana quindi una serie di incontri in cui si è parlato di presente ma si è parlato anche di futuro potremmo dire con progetti e sigle ambiziose nella loro proiezione temporale ma se vogliamo capire meglio quanto è accaduto ai vertici di questi giorni per chi è interessato ci vediamo domani su tp in cui approfondiamo la questione anche leggendo un po di articoli di giornale un po di analisi per approfondire appunto meglio che cosa è accaduto in questi incontri sino arabi e allo stesso modo sempre su tp approfondiremo anche gli sviluppi della questione della polizia cinese in italia anche perché più passano i giorni e più mi pare che la questione si stia sgonfiando da sola però potrebbe vader la pena dire ancora due parole qui su youtube invece questa settimana la mia allegra squadra di investigatori cioè aurora e samuele stanno approfondendo la questione farungò cioè quella setta religiosa cinese che è molto controversa e presto registreremo un video proprio in riferimento al falungon e d'altra parte proprio alla mia allegra squadra di investigatori che va al merito di aver individuato le connessioni tra il falungon e quella ong che ha stilato il rapporto quel report sulla polizia cinese in italia per cui anche in questo modo continueremo comunque ad approfondire la questione poi sempre in settimana e sempre su tp registrerò un approfondimento sulla filosofia classica cinese nello specifico moz cioè il filosofo di cui bien ha trattato nell'ultimo video di filosofia qua sul canale e insomma se vi interessano un po di approfondimenti o se volete anche solo sostenere questo canale allora ci vediamo su tp se volete abbonarvi potete farlo con il link in descrizione e chiunque ci dia una mano è certamente un aiuto molto apprezzato grazie a tutti e a presto